Un po' gravissimo per i True Sons, ma la priorità è la valigetta che il presidente Ellis aveva sull'Air Force One. Kelso aspetta a bordo di un elicottero per recuperarla appena la trovi. Se Ellis ha detto il vero, fargliela riavere è fondamentale. I civili ti aiuteranno a entrare nel perimetro, ma una volta dentro dovrai cavartela da te. Fumogeni! La cortina di fumo ti coprirà, ma datti una mossa! Ci sono dei voltai sospetto e un bel po' di nemici davanti a te. Sembra che in fine funzione. Il cannone automatico spara alla cieca. Ehi, percatevi qui! Arrediti, bambini! C'è un posto privato di fortuna da fuori. Andiamo qua. Vor aposto. T以ito che عن l'altra oltre... Oh baterie avvicinare! ce l'abbiamo fatto no Ok, ok. Ok, ok. Sembra sicuro. Va bene, procedi. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Era l'ultimo. Dovresti avere via libera fino all'ingresso. È arrivato il momento di entrare e finirla qui.